Nelle ultime ore, il Grande Fratello è stato al centro dell'attenzione per un evento che ha sconvolto il mondo dello spettacolo. In particolare, l'incidente che ha scosso l'intera trasmissione è stato causato da Cesara Buonamici, la giornalista e unica opinionista del programma, durante la prima puntata. Inaspettatamente, Buonamici ha involontariamente rivelato ai concorrenti l'esistenza del tugurio, un termine che ha gettato nel panico sia i partecipanti che il conduttore, Alfonso Signorini. Questa iniziale gaffe ha alimentato numerose discussioni e speculazioni da parte del pubblico, ma ciò che è accaduto successivamente ha lasciato tutti a bocca aperta. Infatti, durante la stessa prima puntata, c'è stato un gesto scioccante che è sfuggito all'attenzione sia del conduttore che dei concorrenti. Uno degli operai in collegamento ha compiuto un gesto osceno in diretta, simulando un atto sessuale. Questo gesto è in netto contrasto con la politica di neutralità che Mediaset sta adottando quest'anno e che ha sollevato preoccupazioni riguardo al futuro del programma. Giselda, la concorrente influencer di 34 anni originaria di Pieve del Grappa, Treviso, ha ricevuto i saluti video dei suoi colleghi, amici e familiari, augurandole una buona permanenza nella casa più spiata d'Italia. Tuttavia, l'attenzione è rapidamente sfuggita alla sua presenza nella casa, concentrandosi invece sull'incidente scandaloso. Ora, ci si chiede come Mediaset affronterà questa situazione e se prenderà provvedimenti immediati. Molti si chiedono se Pier Silvio Berlusconi, il capo di Mediaset, deciderà di chiudere il programma dopo appena una puntata. Resta da vedere come questa situazione influenzerà il futuro del Grande Fratello e se verranno adottate misure per evitare che simili incidenti si ripetano in futuro. L'incidente al Grande Fratello ha scatenato una reazione tumultuosa da parte del pubblico e dei social media. Le discussioni online sono esplose in un vortice di commenti indignati e meme ironici, mettendo ulteriormente in luce l'importanza dell'evento. Il gesto osceno dell'operaio durante la diretta è emerso in un momento in cui Mediaset aveva annunciato una politica di neutralità più rigida per i suoi programmi. Quest'anno, l'azienda sembrava voler mantenere una visione più rispettosa e attenta ai valori sociali. L'incidente mette in dubbio la coerenza di questa politica e se ci saranno misure punitive nei confronti dei responsabili. Il Grande Fratello, noto per le sue dinamiche e controversie, si trova ora ad affrontare un'enorme sfida per mantenere la sua reputazione e credibilità. L'incidente ha messo in luce la necessità di un controllo più rigoroso durante le trasmissioni in diretta e solleva domande sulla professionalità di chi lavora dietro le quinte. Tutti gli occhi sono ora puntati su Pier Silvio Berlusconi, il quale dovrà prendere una decisione cruciale per il futuro del programma. La chiusura del Grande Fratello dopo una sola puntata sarebbe senza precedenti, ma potrebbe diventare una necessità per preservare l'integrità del marchio e la fiducia del pubblico. L'incidente al Grande Fratello ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo e ha portato alla ribalta importanti questioni riguardanti la gestione delle trasmissioni in diretta e la politica aziendale di Mediaset. La situazione rimane fluida e il pubblico è in attesa di vedere come si svilupperanno Ghi e Venti e quali saranno le conseguenze per il programma e coloro che ne fanno parte. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto!